Rieccoci qui ragazzi con Cyberpunk 2077, allora dobbiamo andare al mega edificio H8 Dunque, allora, ci abbiamo una macchina noi altri qua, ma credo forse proprio di no ragazzi Vediamo, allora, io, mannaccia la miseria, vorrei tanto capire perché non posso fregare delle auto Aspettate che in compenso qua ci abbiamo un po' di roba, aspettate che roba è questa? No grazie, no no, va bene per questa volta? No 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 no, che c'è? No 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 Credevo che fosse qualche cosa da acquistare, ma invece no Scusi, buon uomo, potrebbe... buon uomo, scusi, signori, signorina, no eh, niente, mannaggia voi, mannaggia, che cos'è? Tutti quanti che non vogliono collaborare su sto cavolo di Cyberpunk 2077, oh, non vogliono darmi la macchina, che cos'è? Mannaggia voi, mannaggia, eh no vabbè ragazzi, 850 metri sono già più che sufficienti da fare a pie... scusate eh Ma, vabbè, chi sono io per giudicare va benissimo, d'accordo anche così Devo trovare una cavolo di auto ragazzi, perché sennò senza non andiamo da nessunissima parte, voglio dire, no? Questo qua sembra che si è... sembra che se l'è fatta addosso Mmm, ciccio, non me la conti giusta te eh Allora, vediamo un po' ragazzi, e vediamo un po', sperando che questo video vada per... per le buone, ecco Cavolo, non sto trovando manco una cacchio di macchina Ma non posso chiamare la mia auto? No, a quanto pare mi sa proprio di no ragazzi, mi sa proprio di no Eh, mannaggia, ecco questi qua sono già stronzetti Qua, aspettate, che cos'è che ci abbiamo? Ah, max dock, ok Va bene, ottimo Eh, però cacchio, non ci abbiamo manco un'auto, una moto Aspettate, un parcheggio Che bello, ci abbiamo un parcheggio, yehi, yehi Ottimo, 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 dai su Perfetto ragazzi, perfetto, perfetto, perfetto Vai, sali e damose Olè, ottimo Via di qua Scusate, posso passare così in me che no Eh, scusi, 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 scusi Eh, sì, secondo me ragazzi, per fare i fortarelli Abbiamo bisogno di aumentare le nostre esigenze Se vogliamo proprio dirlo così Però non lo so ragazzi, eh, non lo so Aspettate che devo girare qua sinistro Scusi, buon uomo, e che cos'è? Mannaggia, lei, mannaggia Si viene a buttare addosso così Ma senza proprio un minimo di rispetto, eh Mannaggia a voi, mannaggia Ma non so ragazzi se possiamo pure modificarle le auto Mmm, quasi come una specie di need for speed Ah, Yakako Okada A Yakako Okada, va a caca Eh, a me lo dici Eh già Certamente cara Certamente Ciao Okada, va a caca Va a caca per tu, eh Io ho già fatto stamattina Già sto a posto E basta Allora, ricordavi Non è saggio Aspettate Leggiamo il messaggio Eh, ricordavi Non è saggio Procrastiare Sono piuttosto Famosa Per la mia Impazienza Ok, va bene Ottimo Ok, ok, ok Ottimo, ottimo Allora, siamo arrivati qua Da Eh, al mega edificio H8 Eh C'è posto per parcheggiare? Aspettate, va Fiamo così, va Vai, parcheggia qua Via, non te preoccupa Vai, dammi Scusi, scusi, eh Eh, che è sta roba qua? Selezione e destinazione Ah, ok Pericolo Moderato Ah, un'altra cosa ragazzi Mi avete detto Di giocare il gioco Il gioco a modalità Vediamo un po' ragazzi Facciamo Modalità difficile Eh, quindi non so ragazzi Se, eh Ok Conferma Ok ragazzi Allora, sono a modalità difficile Però, eh Comunque sia Mo me la devo rifare un'altra volta Tutta quanta a piedi Mannaccia la miseria Mannaccia Me la devo fare di nuovo Tutta quanta a piedi Ebbè sì Ebbè certo Allora ragazzi Io vi salto questa parte E noi ci vediamo Non appena siamo Al mega edificio H8 Ok ragazzi Allora, sono ritornato qui Al mega edificio H8 Fatemi parcheggiare un attimino Qua sto macinino Per il caffè qua Che è meglio Di un macinino del caffè Ok Vai Vi scendi Eh, sì Vabbè Rispondiamo a Eh, sì Vabbè Wakaku Okada Wakaka Wakaka Va bene Ciao ciao Allora Vediamo un po' Incarico aggiornato Automatico Oddio Ma che ca... Scusate Giovini Mannaggia a voi Mannaggia Che cavolo state a combinare qua? State a rompere tutto? Mm Allora Dobbiamo prendere L'edificio Eh, l'ascensore Ok Eh, chiama ascensorio Chiama ascensorio Ah ok Perfetto Scusate Ah, Johnny Tizio Ma tu non te ne puoi andare a fanchiorlo Della mia cozza Allora Prendi l'ascensore Per il close Per il close La tipa della braindance Nasconde qualcosa Non è un caso Che abbiamo già visto Due tiger close L'edificio deve appartenere a loro Dici Perché non credi a Judy I teachers Close Hanno legami Con la rasaga Eh Perché non credi a Judy? Una cosetta chiamata intuito Qui Mai sentita? Oh Quindi stai soltanto sparando cazzate Capisco Ok Allora Siamo arrivati Vai qua Andiamo se va Tu che fai? Resti là? Ah no Te ne sei andato Mannaggia la miseria Mannaggia Che cos'è? Scusi signorina Ma è virtuale Ah Aspettate Ci devo provare Ah ok Ah va benissimo Ok 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 allora Non mi faccio più problemi ragazzi Non mi faccio Anzi Non mi faccio domande Non mi pongo domande Se per questo Salve E che cos'è? Dice Pure? Ah Sto cercando Evelyn Parker Eh Ciccia Che stai a fare là dietro? Ciccia No No Dici? L'algoritmo non sbaglia Mi creda Sceglierà una doll Che la delizierà Ah signori Ah signori Scusi Scusi Vecchè non sono venuto qua Per vedere cosacce Ma sono venuto qua Per lavoro Voglio solo parlare con lei Non sono un cliente Non sono una cliente Beh Motivo in più Per entusiasmarsi Ma oddio C'è una prima volta per tutto Qui al Clouds Perché esitare? Eh Signori Azzo Creeremo il suo profilo personale E potrà entrare Oddio Ma perché Connetti Scusa Ha detto qualcosa di utile Ah Ah Culo il menù Molliamo questa cameriera E portiamo un ordine speciale Dritto allo chef Allora Che vuoi dire? Come sai cosa sto cercando? Come funziona? Che vuoi dire? Quindi Come funziona? Ecco Un algoritmo guida le funzioni motorie della doll Prende i dati del suo profilo E li trasforma Inesperienza in tempo reale Il indicatore mnemonico del chip comportamentale della doll Blocca ogni accesso alla sessione Dice E quindi non resterà traccia dell'incontro Beh Potrei dire di sì Ma ciò lo priverebbe di mistero e suspense Non crede? Una volta lì dentro Sarà lei a decidere quanto rischiare Stai dicendo che non è pericoloso Ma che c'è qualche rischio In un certo senso Una cosa è sicura Non si può mai sapere cosa aspettarsi E beh certo Giusto Allora Eh raga Che famo? Ci connettiamo? Eh ma lo devo fare per forza Vai connettiti D'accordo Facciamolo Questa sarà una sessione dal vivo Quindi gli eventi potrebbero prendere una piega in prevista Ma pure? Ma se lei dovesse sentirsi a disagio Non la interrompa Si perderebbe qualcosa di incredibile Ah signori Vi che non sono venuto qua per far cosacce A continuare Puoi interrompere immediatamente la sessione Scelga una parola d'ordine Ah Samurai È la parola più facile È la parola più facile che mi esce Ora Abbia un attimo di pazienza Oh no Sto spazionando il suo profilo personale Ma poco dovrebbe vedere le doll compatibili Oddio No ragazzi Ma che cavolo sto Oddio ma che cacchio sto a fare Azzure Angel Mistral Rhein Storm Sun Celeste Sky O Cosa? Eh Due risultati Interessante Ecco là È una cosa normale o Chi può dire cos'è Normale È evidente che lei è una persona Dai gusti unici Ma dice Non lo penserai il sistema Allora chi preferisce Angel o Sky Ah Non mi ricordo più ragazzi Ma 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 perché queste cose Ma perché mi fai fare queste cose Ma perché io non volevo fare sta cosa Addio Facciamo vai Angel Non mi dispiace Non avrei potuto scegliere di meglio Ecco là Resta solo il pagamento Pure E poi potrà avventurarsi nel Cloud Scusi signori Quanto è che mi costo 500 euro barra dollari Oddio ragazzi Dobbiamo pagare sta cafonata E la vedo anche della droga là sopra Benissimo Credo che sia droga Oddio ragazzi Io sono venuto qua Per cercare Per cercare Everin Parker Ma mi ci sono ritrovato adesso A vedere donne Che famo Pago o Non pago Ah bravaci ci mette Sul commo Che facevano l'amore Con Eh Vabbè Pagava Scusi Non sto guardando Il transito dei soldi Pagamento confermato Grazie cara L'intero piano È a sua disposizione Se prima desidera Rilassarsi Ah addio Ma io sono venuto qua Per Angel La aspetta nella cabina 6 Ma io sono Ti disconnetta pure A posto Ma io sono venuto A registrare La resi Non sono permesse le armi La prego di lasciare qui con me Tutti gli oggetti pericolosi Pure Depositare le armi Oddio Santissimo Ma non è vero Ah ciccio Dai Ecco Brava I suoi giocattoli Saranno al sicuro I suoi giocattoli Vai deposita le armi Damos Sì 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 C'è Eh Oddio No ma perché Queste Ma per Ma dai Ma dai È colpa tua stronzo Ma ti posso Pgliare pugni Maledetto No eh Mannaggia la miseria Mannaggia Raggiungi la doll Nella cabina Mannaggia Ma perché devo Ma per Guarda qua quante robe Scusi eh Buon uomo Salve Oddio Vai apri Oh no Mannaggia Eh Ah Ti posso scannare subito Ah Soltanto vi Soltanto vi Solo le persone che conosco bene Usano il mio vero nome Ma Presto ci conosceremo molto bene Ma anche no caro Eh Ma oddio Sì perché no Fai il tuo lavoro Ma dai no Censurerò questa parte So che stai morendo Ah Pure tu Parola d'ordine Come fai a saperlo Sto cercando qualcuno Ascolta Sto cercando qualcuno Che lavorava qui Evelyn Parker La conosci? Sai dov'è? Devi vedere il quadro generale Ah ciccio Giù le mani Sa? Lo tescano Come Evelyn Ad esempio Non fingere di conoscermi Voglio solo delle risposte Ma stai facendo le domande giuste? Come puoi cambiare quello che è già successo? Che E cos'è successo esattamente? Vuoi dirmi dove sta Evelyn? Ho detto solo una domanda E te l'ho già fatta Dov'è Evelyn Parker? Perché il manager dice che non lavora più qui? Quando è passata qui l'ultima volta? Sai qualcosa? Dai ciccio Non fammi perdere tempo Questo sarebbe soddisfare i miei desideri più re Addio Santissime Mamma mia Santi Numi I desideri Irrealizzati Diventano necessità Siamo qui per raggiungerli E andare oltre Allora di cosa ho tanto bisogno? Di accettare il fatto che sei già morto a una volta Per affrontare un altro tipo di morte Ciccio senti Prima devo scoprire cos'è successo Non accetto un Ah Il fatto che sto morendo è un incentivo Continuerò a godermela finché dura Volevi lasciarti alle spalle qualcosa Una parte di te Ecco perché hai iniziato tutto Volevi essere ricordata Non lo vogliono tutti Volevo troppo Ah parola d'ordine samurai per far star zitto sto angel qua Non lo vogliono tutti Volevo salire al top Essere qualcuno Lo voglio ancora Ma Sembra che non accadrà mai Però Se devo morire Voglio passare alla storia Cazzo fosse anche una nota appia di pagina E dopo Credi che morire equivalga a sparire e ritrovarsi nel nulla eterno Oddio No 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 Sdraia Sdraia Madonna santa Vibrò Nella testa delle persone Nei loro ricordi La morte e la fine La fine assoluta Oddio no Mamma mia ragazzi Non so che cosa scegliere Oddio Vivrò nella testa delle persone Quelli che ho perso Vivono nei miei pensieri Ed è questo che sarò Un ricordo Noi qua con i pantaloncini peraltro Anche se non farai più parte del mondo Lascerai comunque un segno Ciccio Quindi in fondo non credi che la morte sia la fine Confortante Ho paura di ciò che mi succederà Preferisco non pensare al fatto che sparirà tutto Preferisco non pensare che tutto scomparirà Che non ci sarò più E che tutti gli altri continueranno le loro vite Mi chiedo Cosa proverò Cosa penserò Se mai potrò farlo Riesci a immaginarlo? E adesso? No, è per questo che sto ancora cercando No Ed è per questo che Sto cercando una spiegazione Immagino Deve essercene una E adesso? Cosa facciamo? No, 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 no Questa è la parte in cui io ti dico cosa devi fare No, no Ok Fai pure No, dai B Non sei mai tirata indietro di fronte a nulla Quindi non cominciare ora Neanche di un passo Ciccio In questa città La gente muore mentre va a fare la spesa dietro l'angolo Ma questa minaccia non ti ha mai fermata Ti lanci in mezzo al pericolo L'hai sempre fatto Tocca Non riesco più a stare dietro a quello che accade intorno a me No, basta Samurai Cosa? Che è successo? Oddio Oh no Oddio Hai interrotto la sessione Sì, ho interrotto la sessione perché non me fido Stronzo Ho fatto qualcosa di sbagliato Non sei soddisfatta? Alzati, dammi Dimmi cosa sei su Every Eddry Parker Che cosa sai di lei? Aspetta un attimo Non è così che funziona Oh ciccio Beh Ciccio Non conosco i dettagli Sono cose che è meglio non chiedere Sì, però non mi fumare in faccia Tom potrebbe saperlo Lui ed Evelyn erano amici Chiedilo a lui E ti prego Lasciami in pace Sì, sì, sì Ok Ma ancora? Ah, chi è Tom? Chi è? Un amico di Evelyn Nel tempo libero erano sempre insieme Ok Dove lo trovo? Lavora qui come doll Nell'area VIP Cabina 2 Grazie Non chiedere mai più di me Mai più Eina Basta che stai zitti Ciao ciao Grazie Ok Allora Entra Scusi buon uomo Scusi Che cosa Ma reale sarebbe molto meglio Ciccio Guarda che se vuoi far cosacce È dall'altro lato Mi raccomando Dai Sono qui tutte le c***e settimane Scusate Scusate Oh oh No ma che dia Ma che siete pazzi Ma che siete pazzi Ma guarda un po' questi qua Annaccia la miseria Mannaccia Nasconditi nel cesso Nasconditi nel bagno Maledizione Maledizione Oh e dai Ho soltanto Ho soltanto sbagliato A fare una cavolo di co No ma perché Guardati No da Ah aspettate Vediamo un po' com'è che è messa Ma gli mancano Gli mancano i capelli Senti scusi Smetti Smetti di guardarti Va che mi fai veramente pena Oddio no ragazzi Dice Dice Ciccio Adesso sei fottuta Ah Oddio No 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 Ma che cosa Ma da Scusi 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 Annaccia la miseria No 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 Non famo Non famo boiate Non famo boiate State calmi State calmi Ho detto Aia Ma hanno ammazzato Ma hanno ammazzato Entra nell'aria VIP Va bene Ok Scusi Buon uomo eh Aspettate Aspettate Ma posso Violazione di protocollo Ok Quindi perciò 55 Quindi 55 1 Oddio no Mannaccia La miseria Mannaccia Ricomposizione Mannaccia Meno male ragazzi Che la Ricompire azione È veramente Molto molto breve Quindi riesco A bypassarla Sequenza richiesta Per caricare Quindi è 1C Oddio Che bello Sì Riuscito Accesso riuscito Esci dall'interfaccia Quindi posso aprire No Scusi Trovo una tessera Ad accesso VIP Ancora buon Me lo dici Ma veramente Scusi Buon uomo Ma guardate un po' Sti cavolo Di bug Ma guardate un po' Sti cavolo Di bug Ma perché C'è C'è ma dai Ma non ho capito Ma scusi Katana Accesso consentito Ci abbiamo pure la katana Oddio mio Mo posso Accesso Ah ok Perfetto Quindi Mannaggia voi Mannaggia Ma non me lo potevate Di Me lo potevate Di pure prima Maledetto Scusa Buon uomo Io Ah Dica Ciccio Fai veramente Te pietà Bene No Cosa Ti ha detto Che stava partendo Osaka Quale dei due Ti ha detto lei Che lasciava la città No Ma non è venuta al lavoro Non rispondeva Così io ho chiesto a Woodman Che stava succedendo Mi ha risposto Che era partita Ecco Bene Chi è questo Woodman Dove posso trovare Questo Woodman Woodman Chi è Il signor Forrest Ma tutti lo chiamano Woodman Non ho mai capito perché Ok Il signor Forrest Allora Che cosa fa Il nostro custode Diciamo Trova nuovi talenti Si occupa delle situazioni difficili Bene Capito Oddio Valle uffici di Woodman The vodka Qua Scusate C'è permesso Tanto Voglio dire C'è un tesserino Posta andando Do boia mi pare No Vai apri Appettate Ok Scusate Aria ostile E aria ostile Scusate E aria ostile Dio Pure qua Addio Santissimo Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Ma dico io Ma perché Mannaccia La miseria Mannaccia Aiuto Aiuto Sì vabbè ragazzi Era veramente Tanto Tanto difficile Ah ciccio Non te sopporto più Non te sopporto più E vabbè Ma com'è che faccio Passare io Per andare all'edificio Di woodman Zona ostile E ma da qualche parte Pure devo Porta Aspettate Ah Oddio No 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 ragazzi No dai Su veramente Ma non ci credo Ma perché Adesso Scusate C'è non so Come cavolo Accedere Alla All'ufficio Di woodman Mannaccia La miseria Mannaccia Volete vedere Che mo devo Stare qua Fino domani mattina Sì certo Come no Ma c'è ragione caro Veniamo a dare una mano Piuttosto no Allora aspettate Perché questo Non è che forse Magari ci starebbe In altra zona No Credo forse di no Usa capacità tecnica Però aspettate Questo qua Ancora rimasto morto Qua dentro Che cos'è Però Comunque si Aspettate Allora Inventario Creazioni Personaggio Diario Le abilità Manda Avanti il tempo Creazioni No Creazioni No Potenziamenti No Diario Personaggio Reputazione Livello 8 No ragazzi Allora Riflessi Fisico Capacità Tecnica Eccolo qua Allora Meccanico Ah Mannaccia Creazione 1 Passiva 1 Livello 1 Smontare gli oggetti Conferisce più componenti Addio Non ci abbiamo Punti talento Ingegneria Invece Eh Non niente ragazzi Mi sa tanto che Qua non ci posso fare niente Però eh Mannaccia La miseria Mannaccia Mo Com'è che fa Mo Com'è che si fa Mannaccia La miseria Ragazzi Qua purtroppo È impossibile Entrarci Voglio dire No A parte il fatto Che quella porta Là sotto l'anno La capacità Tecnica di 7 Fisico 9 No ragazzi Secondo me Non posso Proprio Aspettate Che comunque sia Controllo Telecamera Spegni Disattiva Allora Spegniamo le telecamere Vediamo un po' Se che forse Magari riesco A distrarli Vediamo un po' Le altre telecamere Andè che stanno Rete violata Aspettate Spegni pure questa L'altra Andè che sta L'altra sta un po' Leggermente più avanti Qua Aspettate Mi sa che stava qua All'angolo Altoparlante Violazione di protocollo Bloccato Ah ok No Non è Non è una telecamera Ma credo che dovrebbe Essere un altoparlante Credo proprio di sì Però scusi Buon uomo Non mi ha detto Com'è che devo entrare Però Perché qua Cacchiarola È impossibile Entrarci ragazzi È aria ostile Però scusate Aspettate Se vado pian Pianino così No ragazzi Non posso fare niente Non posso manco Violarla No ragazzi No Niente Non posso scassinarla Purtroppo È già Però comunque sia Carte Ok Munizioni No Ragazzi Non posso andarci Ricevuto Nuovo oggetto Ok La katana No Niente armi ragazzi Niente armi Disattivazione remota Non è che forse Magari si potrebbe Aprire con la porta Non lo so No 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 Scusate C'è permesso Scusate Mi Vai Pigliati Pigliati del caffè ciccio Non ti sta preoccupando Che cavolo è quella roba Là sopra Shard Aspettate Aspettate Ma Ma questo qua Che roba è Ma è un vetro Addio No 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 Eh no Niente ragazzi Niente 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 Non ci sono riuscito Manco stavolta Oddio No 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 mannaggia La miseria Mannaggia Ma perché mi ha fatto Spoonare qua adesso Perché mi ha fatto Spoonare qua Ciccio Vedi che ti piglia Pugni Della pa Eh vabbè Che cos'è Dai su Ma non mi ha manco Toccato che subito Sono morto Mannaggia La miseria Ma mi sa tanto ragazzi Che mi ci devo spostare Un po' leggermente a destra Perché sennò Questo como Se mi becca un'altra volta E mi fa fuori Mannaggia La miseria A me Quando cavolo Sono entrato qua dentro Che poi voglio dire No giusto là dentro Andate a salvarmi Il checkpoint Almeno me lo fossi salvato Dall'altra parte Ciccio Che cos'è Mannaggia A te Mannaggia Dai su No Porca Eva Porca Eva Porca 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 No Ragazzi E' finita E' finita E' finita E' finita No ragazzi Custoditi Custoditi Dove Non so dove Dai 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 Curati Dai Che sta Dai 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 Peglia Lappugni Peglia Lappugni Peglia Lappugni Maledetto No E' se Vabbè No niente ragazzi Non si può proprio Fa Non si può proprio Fa sta missione E vabbè Dai ragazzi Allora Io direi quasi quasi Di completare qui Questo nuovo appuntamento Della serie Di cyberpunk 2077 Spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto E se è così Mi raccomando Vi invito a lasciare Like A commentare Di iscrivervi E attivare la campanellina Niente ragazzi Dai Noi ci si becca In un prossimo video Ciao ragazzi